No! Presentiamo la famiglia, le due sociali, e si presenta da sola. Non tocca i miei biscotti. La pazza è il suo migliore amico. Ma che stai a me? L'intellettuale. Senti. La vecchia e l'abbadante. È l'ora del rosario! Non lo vogliamo il rosario? Hai comprato un nuovo animaletto? La tocca il mio arrivo! Anche tu hai un nuovo animaletto? No. I giovani d'oggi? I soldi da me li do! Pasqua! E' il tuo Catacchino. Lascio non posso studiare tutto questo Bracchino. Annie! L'importante è che non abbiamo toccato i miei biscotti. Dov'è il papa? Dov'è il papa? Allora! Ho fame! Un biglio! Cocina! Ah! Cocinato! Ho la cocina! Non so cocinato! Ma vorrei! Ma che io? C'è la migliore famiglia! Oddio! No! Non mi rubare la siena! È morto Elvi! Mani qua Elvi! Corri! Erri! 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 Chi è il mio Elvi? Erri! Il mio amore! Signora Maria! Venite un attimo! Ma tu! Ma tu! Ma tu! Ma tu! Che bui ha morto! E chi sei tu? La mia nuova patante? No. Hai visto il mio Henry? Io? Ma tu? Ma tu? Ma tu? Tu? E che sei tu? E che sei tu? E sta? E tu? E tu? E me? ahhh la ho potato vinta io erri i biscotti è mio i miei biscotti perchè di cominci ciao erri è mio Allora il video è finito Spero vi sia piaciuto Mettete mi piace o commentate Iscrivetevi al canale se non lo siete ancora Sotto trovate nell'info box Varie cose su di me E sta arrivando una mano di persone Ciao Anna È mia mamma Saludiamo la nonna Ciao pazza Ciao mamma Saluto Lessi Ciao Come sempre C'è Lessi Biscotti Mi hai interrotto prima Ciao mamma Ciao risalda E' la mia Ciao 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 Grazie a tutti.